Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessio Purgamer e oggi siamo un nuovo video Allora ragazzi, in questo video facciamo un unboxing dei regali di Natale Più gli oggetti che ho comprato io Allora ragazzi, gli oggetti che ho comprato io sono queste cuffie della Grundy Che è davvero davvero ottimo a mio parere Infatti si alzano, si abbassano Dipende dalla testa, chi avete voi? Allora, c'è troppo luce Allora, poi ho comprato questa ventola Davvero buona per pc, solamente a 3 euro E si collega facilmente al computer Infatti quando la colleghi si accende anche la luce Poi ho comprato, cioè siccome mi sono fidanzato Sto fidanzando Vi ho comprato alla mia fidanzata e domani ci dobbiamo vedere Questa collana col cuore e degli orecchini sempre col cuore Perché io sono un playboy Allora ragazzi, poi i miei genitori mi hanno comprato GTA 5 E' più una gioca di pelle e più delle scarpe per la palestra Solamente per la palestra Che già l'avevo comprate prima Invece il regalo di Natale impacchiettato La sorpresa è stato questo profumo dell'Adidas Della Champions League Davvero, davvero ottimo Davvero, davvero ottimo Buonissimo Poi, mio fratello e sua moglie me ne hanno fatto Questo DJ Control MP3LE Della Hercules Infatti io sono iscritto al loro sito Che davvero, davvero C'è un buon sito In cui puoi messaggiare Puoi fare un sacco di cose Appunto Puoi registrare un remix Infatti oggi dovrei registrare un remix Però l'unica pecca di questo DJ Control E' che non si possono fare gli scratch Anche quando suoni Comunque, a parte gli scratch E' davvero un buon DJ Control Comunque, poi mi sono comprato Degli oggettini Un'auto della Hot Wheels Un giocatore piccolo Così Tanto così Per spendere soldi Siccome mia zia mi ha dato 25 euro Mi sono rimasti 10 euro E qualche cosa ora Sì, perché ho speso 14 euro Per tutte queste cose Cioè, ho speso 14 euro solamente per Cuffie Ventola Quelle due cose 75 euro 75 centesimi di sacchettino Perché? Queste cuffie le ho pagate 8 euro 3 euro Più quelle due cose 1 euro 1 euro e 50 Fanno 14 euro Qualche cosa Comunque, raga Se questo video vi sia piaciuto Lasciate un bel pollice In su La fatemelo sapere Con un commento Qui sotto Cosa avete ricevuto A voi A Natale E Iscrivete Alla mia pagina Facebook Instagram Tutta in descrizione Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi al mio canale Per non passare i prossimi video Ci vediamo Che al prossimo video Bene ragazzi Ciao Ciao